Ci occupiamo adesso della rappresentazione binaria dei suoni. Ecco, l'argomento risulta essere leggermente più complesso rispetto alla rappresentazione binaria del testo. Allora, il suono è una informazione di tipo analogica. Di conseguenza, le grandezze che caratterizzano il suono possono assumere qualsiasi valore e naturalmente questo è chiaramente un problema. Allora, facciamo un esempio molto semplice. Cioè, supponiamo che il segnale che caratterizza il suono sia un'onda di tipo sinusoidale. In realtà, noi sappiamo che le onde sono sovrapposizione di onde sinusoidali. La sovrapposizione è discreta quando l'onda è sostanzialmente di tipo periodica, mentre invece si parla di una sovrapposizione continua attraverso la trasformata di Fourier quando l'onda non è periodica. Noi limitiamoci semplicemente ad un segnale sonoro rappresentato da una grandezza sinusoidale. Quindi, possiamo mettere, diciamo, sulle ordinate la grandezza Y che caratterizza il suono e sulle ascisse la grandezza temporale T. Dopodiché procedo nel disegno di una sinusoide, che potrebbe essere questa. Va bene? Allora, come sappiamo, il valore massimo raggiunto dalla grandezza Y si chiama ampiezza del segnale, quindi Ymax sarebbe appunto questa, mentre invece indichiamo con T grande il periodo ed è l'intervallo di tempo minimo dopo il quale il segnale si ripete. Naturalmente, poi sappiamo anche che la frequenza che si misura in Hz, mentre il periodo si misura in secondi, risulta essere il reciproco del periodo. Per quanto riguarda l'orecchio umano, possiamo dire che l'orecchio umano, quindi la frequenza, per così dire, udibile, per cui l'orecchio umano sente una frequenza compresa fra i 20 Hz e i 20.000 Hz. Va bene? Ecco allora che il segnale analogico che rappresenta il suono va trasformato in un segnale digitale. Quindi, attenzione, il suono, che è un segnale analogico che, ripeto, può assumere qualsiasi valore, lo vediamo anche qui in questo grafico, che è la grandezza Y che caratterizza il suono, può assumere qualsiasi valore, deve essere trasformato, quindi va trasformato in un segnale digitale. Che cos'è un segnale digitale? Un segnale digitale è un insieme di bit 0 e 1. Ora, per fare questa trasformazione dal segnale analogico al segnale digitale, che naturalmente poi può essere utilizzato dal nostro PC, dobbiamo utilizzare quello che si chiama metodo di campionamento. Metodo di campionamento. Ritorniamo al segnale acustico precedente. Allora, avevamo detto che prendevamo in considerazione un segnale sinusoidale, quindi un segnale tipo questo, quindi qui non c'è la X ma c'è il tempo, mentre qui c'è la grandezza Y che caratterizza il suono, quindi se questo è 0, questo è T. Allora, in che cosa consiste questo metodo di campionamento? Beh, il metodo di campionamento consiste nel suddividere l'intervallo 0 T mezzi in un numero di intervalli temporali. Quindi, diciamo, la lunghezza di questi intervalli temporali possiamo indicarla con ΔT, quindi abbiamo una situazione di questo tipo, una suddivisione di questo tipo. È chiaro che in corrispondenza di ogni intervallo ΔT, noi abbiamo che cosa? Quindi questo lo possiamo chiamare, non lo so, Y0, il valore di Y lo chiamiamo Y1, Y2, Y3, e così via. E quindi, sostanzialmente, il campionamento del segnale, una volta individuato l'intervallo di suddivisione temporale ΔT, può essere indicato in questo modo, come Y0, Y1, Y2, Y3, e così via. Ecco, la rigenerazione del segnale consiste sostanzialmente nell'invio di questa sequenza di valori numerici ad una cassa acustica. naturalmente con questa sequenza di valori numerici noi non rigeneriamo, diciamo, il segnale acustico originale, ma possiamo rigenerare, appunto, il segnale acustico che si ottiene, quindi, come una spezzata. naturalmente, tanto più piccolo risulta essere l'intervallo ΔT e tanto più preciso risulta essere il campionamento. Bene, si indica, diciamo, con NiCamp, cioè frequenza di campionamento, proprio il reciproco di questo intervallo ΔT. Ora, osserviamo che se l'intervallo ΔT fosse uguale a T grande oppure anche uguale a T grande mezzi, è chiaro che, diciamo, il campionamento del segnale fornisce un segnale costante. Per esempio, se fosse T mezzi, noi diamo i seguenti valori, diamo questo valore 0, questo valore 0, questo valore 0, Naturalmente, se fosse T, diamo questo valore e questo valore, ma se fosse T, ad esempio, noi diamo il valore Y1, poi il valore Y2 uguale a Y1. Quindi, attenzione, che se l'intervallo ΔT è uguale a T oppure anche uguale a T mezzi, eccetera, noi rischiamo di dare un segnale sempre costante. Ora, tenendo conto che la frequenza, diciamo, che può essere percepita dal nostro orecchio va da 20 a 20.000 Hz, appare evidente che, generalmente, la frequenza di campionamento risulta essere uguale a 1 su 40.000 Hz, risulta essere uguale a 40.000 Hz. Così siamo sicuri che con questa frequenza di campionamento e quindi con un ΔT uguale a Ni, frequenza di campionamento, cioè uguale a 40.000, a 1 su 40.000 Hz, noi siamo in grado di campionare in modo significativo il segnale. Ora, per la codifica dei suoni si utilizzano di solito 16 o 24 bit. E' chiaro che utilizzando n uguale a 16 oppure n uguale a 24, allora, noi possiamo rappresentare, diciamo, la y con 65.000 livelli di ampiezza nel caso in cui il numero di bit è uguale a 16 oppure, nel caso in cui il numero di bit è uguale a 24, noi possiamo rappresentare la y con 16 milioni di livelli di ampiezza distinti. Ora, un formato audio molto noto, diciamo, anzi, forse quello più noto, è sicuramente il formato MP3 che permette il campionamento del segnale con una frequenza di campionamento pari a 44.100 Hz. Quindi vediamo che è più del doppio del valore massimo della frequenza che può essere udita. Ora, per avere, diciamo, informazioni più precise sull'MP3 uno potrebbe andare su Wikipedia e cercare di conoscere, diciamo, com'è nato MP3 e quali sono le sue caratteristiche. Ecco, volendo fare un riassunto circa la rappresentazione binaria del suono, quello che noi possiamo dire è questo, quindi. Supponiamo di avere la grandezza y che caratterizza il suono in forma sinusoidale. Allora, cosa succede? Succede che, introducendo un intervallo di tempo delta T per il campionamento molto piccolo, allora, noi possiamo sostituire, diciamo, questa curva sinusoidale con una, diciamo, sequenza di valori, no, della y, y0, y1, y2, y3, fino ad arrivare a yn piccolo. Abbiamo visto come vengono generati, diciamo, questi y. dopodiché attenzione che ogni y0 deve essere codificato in numero binario, va bene, lo possiamo codificare con 16 bit o con 24 bit, lo stesso vale per y1, lo stesso vale per yn, e quindi sostanzialmente alla fine questo, diciamo, questo segnale acustico viene trasformato in un segnale digitale come una sequenza di tanti 0, 1, eccetera, eccetera, e quindi abbiamo codificato in modo binario questo segnale acustico.